Allarme bomba questa mattina in località Torno a Carrara di Fano. Intorno agli 11.30 ai vigili urbani è arrivata una telefonata fatta da un residente della zona che ha annunciato la presenza di un pacco sospetto sul ciglio di una strada nelle vicinanze della centrale dell'Enel. Il dubbio è venuto all'uomo per l'aspetto esteriore dell'oggetto. Si trattava di un barattolo in metallo, chiuso con dello scotch, avvolto da un pezzo di plastica e legato nella parte superiore con un filo colorato. Elementi che secondo questa persona potevano far pensare ad un ordigno esplosivo. A quel punto la polizia locale ha attivato immediatamente la procedura del caso, allertando sia gli artificieri che i carabinieri. Una volta giunti sul posto l'area è stata transennata per motivi di sicurezza, ma dopo alcuni accertamenti le forze dell'ordine hanno capito che in realtà non c'era nulla di cui preoccuparsi. Così il comandante dei carabinieri di Fano, Alfonso Falcucci, ha aperto il barattolo. Al suo interno c'erano solo resti di un ombrello e pezzi in plastica e ferro. Dunque, per fortuna, soltanto un falso allarme.